La Curia ha da tempo iniziato un percorso con tutti i presidenti degli ordini professionali per affrontare problematiche come la disoccupazione. Abbiamo riscontrato un'intesa perfetta e la volontà di individuare modalità pratiche. Stiamo lavorando per trovare spazi nei vari quartieri della città, dove mettere insieme le qualità dei professionisti, delle scuole e delle parrocchie. Lo ha detto il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, intervenendo al forum organizzato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, guidato da Edmondo Duraccio. Un dialogo per vedere che cosa insieme potevamo fare per affrontare questo, che è il problema dei problemi, il problema del lavoro, della disoccupazione. E c'è stato, devo dire, grazie a Dio, un'intesa perfetta, perché si aveva tutti la volontà di non solo sensibilizzare, ma trovare anche le modalità pratiche per dare un minimo di risposta. Stiamo portando avanti un processo virtuoso con i consulenti del lavoro di Napoli, ha sottolineato Luigi Di Maio, il vicepresidente della Camera dei Deputati, finalizzato ad aiutare quelle imprese che vogliono accedere al fondo per il microcredito, a cui destiniamo parte dei nostri stipendi. Come si crea il lavoro? Si crea anche guardando con prospettiva politica. Questa è una regione che ha bisogno di ristrutturare tutta l'edilizia pubblica, ha bisogno di renderla efficiente energeticamente. Ci sono tante piccole start-up che stanno investendo in innovazione e gli enti comunali e regionali devono stargli vicino, gli devono dare una mano. Bisogna ottimizzare i centri per l'impiego, che oggi purtroppo non funzionano al meglio, e sfruttare questa rete, questa rete di professionisti. Secondo il leader napoletano dei consulenti del lavoro Edmondo Duraccio, la crescita delle aziende da cui dipende l'occupazione non può che passare dall'incremento dei consumi. Ascoltiamo. Noi partiamo da un altro presupposto. Bisogna ravvivare l'economia e l'occupazione è figlia dell'economia. Per ravvivare l'economia bisogna incrementare i consumi e quindi venire incontro attraverso circolazione di ulteriore moneta, attraverso il potere di acquisto degli stipendi e ho investimenti pubblici da parte dello Stato per mettere su un'economia migliore. Ma la battaglia non si deve combattere in Italia, altrimenti è persa in partenza, ma è in Europa. Grazie. Grazie. Grazie.